Ciao a tutti e a tutti, sono Niccolò Rondinelli di Novara, chitarrista dei Semprepeggio. Prima di tutto ringrazio Cristian per questa preziosissima opportunità di raccontare la mia umilissima testimonianza del percorso che mi ha portato a far parte della scena musicale, sottoculturale, punk, hardcore in Italia e provo a raccontare questo mio percorso partendo un po' dagli albori, ecco, del mio percorso esistenziale appunto. Io sono nato nell'82, quindi ho 41 anni e ho vissuto buona parte della mia vita a Trecate in provincia di Novara, quindi c'è una zona abbastanza di transito tra Piemonte e Lombardia con Milano sullo sfondo, ecco, nel bene e nel male, insomma, anche rispetto a quello che andrò a raccontare. Dicevo, partendo dagli albori posso dire che, vabbè, il mio rapporto con la musica è sempre stato molto, molto viscerale, cioè quindi fin da bambino sono stato abituato ad ascoltare musica, sia con la radio dei miei genitori che con i vari Walkman che si sono avvicendati, insomma, nel mio percorso, e fin da bambino ho sempre avuto questa curiosità spasmodica che mi sono portato poi appunto anche nel mio percorso di crescita di legata un po' al conoscere canzoni, artisti, band e quant'altro, ecco, e approfondirne poi le varie peculiarità e sfaccettature. Da bambino ricordo che tra i vari artisti, quelli che mi rimanevano più impressi, insomma, parliamo della seconda metà degli anni Ottanta, c'erano sicuramente Michael Jackson, Gianna Nannini, ricordo che tra l'altro uno dei primi pezzi che definivo, insomma, tra i miei pezzi preferiti era Ready Mesa Dancer degli Snap, quindi come si può evincere, insomma, anche generi molto diversi tra loro, insomma, e crescendo poi, bambino, sono passato anch'io come tanti della mia generazione attraverso l'esplosione, il boom degli 883, mentre la scintilla che fece scattare in me, insomma, una certa attrazione, e un certo interesse verso tutto quello che poi nel corso della mia vita avrei, insomma, seguito e fatto mio, diciamo, per quello che riguarda il punk e i suoi derivati, fu la visione di un videoclip, un famigerato videoclip di Basket Case dei Green Day, quindi siamo nel 94-95, giù di lì, appena dopo l'uscita di Duki, su Videomusic, e ricordo che fu molto impattante per me, nel senso che prima di allora nel mio piccolo non avevo mai sentito nulla di simile, ecco, cioè di così diretto, di così forte, no, per quello che era la mia sensibilità musicale non solo. Diciamo che in quel momento chiaramente ancora non sapevo nulla, non sapevo cosa fosse il punk, non sapevo cosa ci fosse dietro, quale fosse la sua storia, quale fossero tutti i vari risvolti sociali e culturali, no, che riguardavano quello che di fatto sappiamo non essere solo un genere musicale, ma qualcosa di molto molto di più. Qualche settimana dopo, la visione del video, ricordo che ero a casa di mia nonna, e mio zio comprava settimanalmente la rivista Sorrisi e Canzoni, e ogni settimana c'era una rubrica, che si chiamava mi pare Hit Barade, nella quale veniva pubblicato il testo di una canzone, e quella settimana ricordo che il numero di Sorrisi e Canzoni appunto aveva il testo di Basket Case, con un piccolo trafiletto che parlava dei Green Day e parlava del punk, di gruppi come Sex Pistols, Salamons, Misfits mi pare, o giù di lì, era la prima volta forse che sentivo la parola punk, o forse l'avevo sentita nominare in qualche canzone, tra cui Non m'annoio di Giovanotti, se non ricordo male, c'è il pezzo in cui appunto parla dei punk, i capelloni, metallari, eccetera, eccetera, ecco. Io avevo 12-13 anni e, diciamo, con i miei coetanei e con gli amici del paese, insomma, oltre a condividere partite di calcio e affini, si parlava tanto anche di musica, erano gli anni in cui sperimentavamo, insomma, anche i nostri ascolti, le nostre conoscenze, e Novara e Provincia, nello specifico, era un feudo della cultura hip-hop, del rap, tanto che in quegli anni era nata e si era sviluppata una crew che si chiamava Area Cronica, a cui facevano riferimento gruppi come Sottotono, Lyricals, Atipici e tanti altri, che a me però all'epoca non prendeva granché appunto, quanto ero preso già da, diciamo, da quel circuito, da quel filone, diciamo, un po' più roccheggiante, chiamiamolo così, con i suoi derivati. Quindi dai Green Day passai agli Oasis, iniziai ad appassionarmi poi anche di gruppi un po' più pesanti, diciamo così, come potrebbero essere gli Iron Maiden, gli Smashing Pumpkins, passai agli Slayer, i Pantera, fino a che poi non approfondì di fatto la mia conoscenza di quelli che erano i gruppi punk, dagli albori, quindi dei Sex Pistols, Ramones, Social Distortion, UK Subs, Budscox, giù di lì, fino a quella che era la scena, la cosiddetta scena punk hardcore melodica californiana, quindi da Offspring, NoFX, Rancid, Pennywise, insomma, tutto quel filone lì, ecco. E fu una conoscenza che di fatto mi creai un po' in autonomia, o grazie agli scambi che nel frattempo mi capitava di intrattenere con altri ragazzi, altri coetanei o gente più grande che, insomma, era già dentro questo tipo di ascolto. Anche perché nel frattempo ero passato dalle medie alle superiori, quindi dalle scuole medie alle superiori, quindi di conseguenza da Trecate a Novara, alla città, e quindi il bacino d'utenza e di conoscenza di ragazzi che come me portavano avanti il loro percorso di crescita e di conoscenza attraverso la musica, insomma, rendeva più facile anche il reperire informazioni a altro, ecco. Poi ricordo anche che i miei viaggi annuali in Basilicata al paese di provenienza di mio papà erano un'ulteriore fonte di approfondimento e conoscenza, perché avevo questo cugino Gianni con cui, insomma, si creava un po' questa sorta di competizione tra chi conosceva più gruppi, chi riusciva a procurarsi più cassette, più CD dei vari gruppi, più cassette che CD, direi, anche perché appunto all'epoca i CD costavano abbastanza, ecco, per le paghette che, insomma, la mia famiglia, le famiglie dei miei amici o delle persone più vicine a me, insomma, potevano darci, ecco. Quindi significava talvolta tenere da parte i soldi fino a che non si raggiungeva la cifra per acquistare un CD che spesso veniva comprato, diciamo, sulla base magari di conoscenze superficiali del tal gruppo, perché magari si conosceva una canzone o due, quindi si comprava il CD a scatola chiusa sperando che le altre canzoni ci piacessero, sennò ce le facevamo andare bene lo stesso, ecco, era anche un po' una sorta di gioco psicologico, ecco. E quindi questo filo conduttore legato alla musica e anche alla, come dicevo prima, la curiosità spasmodica, no, di conoscere nuovi gruppi, nuovi generi, mi spingeva poi a, insomma, approfondire sempre di più, ad avere poi i miei foglietti sparsi per casa dove mi elencavo, mi scrivevo elenchi di gruppi che avrei voluto ascoltare o di cui avrei voluto comprare i CD, per esempio. Mi bastava magari leggere i numeri dei cataloghi della Negative o della Nannucci che mi procurava appunto questo mio cugino o altri amici, dove nella sezione punk, insomma, scorgevo magari i nomi di gruppi che non conoscevo e me li appuntavo per, sperando poi appunto un giorno di poter acquistarne i CD o di poter avere appunto le cassette, ecco. E gli anni del liceo sono stati un po' un, come dire, un punto di passaggio fondamentale anche da questo punto di vista perché ho avuto modo di conoscere amici che, insomma, con cui coltivo tuttora questo tipo di passioni e conoscere anche tante persone con le quali, insomma, ci si scambiavano vicendevolmente i CD e le cassette e le varie conoscenze, ecco. Nel 98, poi, quindi io avevo 16 anni, a Novara viene occupato il centro sociale Cavalcavia e prendendovi parte poi progressivamente ho iniziato, diciamo, a conoscere quella che era poi la vera chiamiamola scena underground legata al punk, nel senso che forte delle mie scarne esperienze legate alla conoscenza magari di gruppi un po' più mainstream avendo visto nel frattempo appunto qualche concerto, tra cui il Teste Vuote e Ossarotte nel 98 con NoFX, Rancid, Budscox ed altri gruppi, insomma, avvicinarmi a questo tipo di situazioni mi ha poi permesso di entrare proprio nel vivo di quella che era la scena punk vissuta anche da altre persone che come me in altri territori portavano avanti poi le stesse cose che, insomma, che facevo io con i miei amici sia dal punto di vista musicale che si può dire controculturale e via dicendo, ecco. quindi l'attivismo all'interno del centro sociale Cavalcavia che mi ha portato poi negli anni anche a organizzare in prima persona dei concerti, dei festival con gruppi e band italiane e straniere che, insomma, nel frattempo avevamo avuto modo di conoscere andando in giro per concerti tra, insomma, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, eccetera e la stesura di una fanzine che, assieme all'amico Andrea Vecchio fanzine chiamata Fuori Sede che è uscita, diciamo, in quattro numeri tra il 99, il 2000, il 2001 circa sono stati un po', diciamo, i due, chiamiamoli, riti di passaggio ecco, i riti di ingresso, mettiamola così in quella che era invece poi, appunto, come dicevo prima, il circuito underground, vero e proprio il fatto anche di vivere a Novara e di vivere a due passi da Milano fece sì che, assieme agli amici di sempre, insomma, coltivassimo poi quelle che erano i rituali di pellegrinaggio presso le varie mech dei vari negozi di dischi, tipo Zabrisky Point di Steve Valley, quando lo si trovava aperto Riot Records di Corrado, così come la fiera di Senigallia al sabato nelle varie bancarelle di magliette, CD, dischi e quant'altro che erano ulteriori modi e opportunità di conoscere gente anche di altre zone, insomma e ampliare ulteriormente poi la mia, la nostra sete di conoscenze, di gruppi e situazioni ecco, poi Milano all'epoca chiaramente, anche come si diceva un po' per vicinanza geografica aveva un po' tutto quello che noi cercavamo, cioè da locali, centri sociali nei quali si andava spessissimo a vedere concerti, cioè dal, chiaramente, Leoncavallo il Bulk, il Garibaldi, il Vittoria, anche locali tipo il Rainbow, il Tunnel e tanti altri insomma, erano un po' il nostro punto di riferimento sia durante la settimana che, insomma, nei weekend, quindi poi anche a maggior ragione nei primi anni in cui avvano la patente, avvano la possibilità di spostarci anche con la macchina ecco, se no si usava il buon vecchio treno o addirittura l'autostop in certe situazioni e quindi per chiudere un po' il cerchio, appunto, la stesura della fanzine il far parte del collettivo del centro sociale, quindi il mettermi in gioco nella organizzazione dei concerti e poi successivamente il far parte a pieno titolo anche di gruppi in qualità di musicista, tra virgolette, sono stati un po' i capisaldi di quello che è stato il mio percorso io ho iniziato a suonare la chitarra ad autodidatta verso i 14-15 anni lasciando stare quasi da subito solfeggi, arpeggi e cose del genere proprio perché io volevo suonare, volevo riprodurre le cose che di fatto poi ascoltavo e quindi, diciamo, verso i 17-18 anni ho iniziato a sperimentarmi prima come chitarrista e poi come bassista in vari gruppi sempre con amici, quindi spaziando dal punk hardcore melodico alla crust, alla new school, quindi citando gruppi che sicuramente i più non conoscono come Hold It On, Rifiuto, Blood Eyed Lady e tanti altri e il suonare al pari del, insomma, frequentare le attività del centro sociale scrivere le fanzine era poi di fatto un mezzo per ampliare e intessere ulteriori relazioni interpersonali con altre persone ecco, cosa che poi di fatto penso di portarmi dietro anche oggi cioè il fatto che molte delle persone che vedo ancora oggi ai concerti o nelle varie situazioni siano quelle con cui magari vent'anni fa mi interfacciavo appunto attraverso scambi epistolari in cui ci si scambiavano magari fanzine materiali, cassette duplicate e così via nel 2002, tra l'altro, sempre insieme alla cricca dei miei amici e compagni storici del centro sociale Cavalcavia mettiamo su questa etichetta discografica e distribuzione che si chiamava Bloody Tears Collective con la quale per un tot di anni ci mettiamo a pubblicare dischi CD di vari gruppi italiani e non posso citare i Kafka, di cui stampammo la retrospettiva quindi la discografia nel 2003-2004 i Kane, Nashua e Mamba Jamba di Milano i Coming Correct, gli americani diciamo del cantante di 25th Alive e tanti altri gruppi ecco, quindi fu anche quello un po' un modo per portare avanti il discorso comunque del do it yourself della gestione degli aspetti musicali anche da un punto di vista, come dire, della distribuzione o comunque della pubblicazione ecco, cioè quindi ci permetteva allo stesso tempo di tenere vivi gli scambi sia di materiale che di, diciamo, a livello personale nel 2006 invece prendo parte ai Mastic al gruppo, la band i Mastic che era, che annoverava al suo interno anche Andrea Vecchio il mio amico con cui avevo iniziato la stesura della fanzine fuorisede band Power Violence Grind con la quale registrammo due o tre dischi e facemmo due o tre tour tra Italia ed Europa e gruppo che è durato più o meno fino al 2010 ecco, nel frattempo avevo iniziato a suonare la chitarra nei Johnny Rossanto Scalaveras questo gruppo punk rock and roll sempre di Novara un terzetto con cui, diciamo, siamo andati avanti per un tot di anni registrando due CD e un tour in Europa tra Francia, Germania e Spagna fino al 2015 in cui, appunto, si forma di sempre peggio io prendo parte di sempre peggio in realtà verso la fine del 2016 come affiancandomi a Marra e forte un po' del fatto anche dell'amicizia che legava e che lega tuttora me, Martin e gli altri del gruppo da ormai decenni e che dire questo è stato un po', spero in maniera più sintetica possibile quello che è stato, insomma, un po' il mio percorso di nascita, sviluppo e evoluzione delle mie esperienze appunto nella scena underground nello specifico quella punk hardcore devo essere sincero questo video l'avrò provato almeno 20 volte proprio perché mi rendo conto che è difficile condensare in poche decine di minuti tutto quello che, insomma, tutto un universo di anche e soprattutto di emozioni oltre che di eventi per raccontare appunto una parte di vita importante come questa e sono sicuro che se dovessi rifarlo altre volte racconterei, mi verrebbero in mente aneddoti e situazioni che al momento appunto magari non sono emersi ma che verranno potrebbero venire fuori sicuramente davanti a qualche birra in qualche pub o in qualche locale o centro sociale ad ascoltare della buona musica ecco, durante magari un nostro concerto quindi spero che ci sia occasione anche per procedere in questo senso chiudo semplicemente dicendo che insomma, quello che è stato quello che ho vissuto nel mio piccolo nella mia modesta e umile esperienza sicuramente mi ha formato insieme ad altre cose insomma, quello che è la mia identità che sono i miei valori che è il mio modo di concepire la vita nel senso, nelle sue dimensioni a 360 gradi ecco, quindi citando degli altri mostri sacri che sono in negazione insomma, per quanto possibile lo spirito continua ecco, cerchiamo di farlo continuare mi congedo ringraziandovi per l'ascolto ringraziando ancora tantissimo Christian per questa preziosa opportunità che mi ha dato e niente, ci si vede sotto i palchi nelle strade o dove volete ciao